Lo storico gruppo metalmeccanico San Marco di Lanciano con i suoi 230 dipendenti è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Lanciano che non ha accettato il concordato preventivo in considerazione della forte esposizione di vittoria per decine di milioni di euro. L'azienda da un anno era stata ceduta in affitto al gruppo Stolla di Torino, altra nota azienda che già possiede lo stabilimento Irma nell'area industriale di Atessa. La San Marco aveva due stabilimenti nelle aree industriali di Lanciano e Atessa. Il fallimento della San Marco, dichiara il segretario provinciale FIOM Marco Di Rocco, rappresenta un momento di grande delusione per lo storico settore industriale frentano. Ora chiederemo un incontro urgente alla curatela fallimentare per discutere del futuro della San Marco e della tutela dei lavoratori. Il gruppo San Marco apparteneva alla famiglia dello scomparso Cavagliari Ciglio Sideri, già presidente regionale di Confindustria. L'azienda era specializzata nella produzione di guardrail e sedili per i furgoni del gruppo Fiat.